Buongiorno a tutti e innanzitutto benvenuti a questo primo appuntamento online di Pellini Incontra che dopo il successo raccolto on the road con le prime sei date arriva in versione webinar e come vedremo si svilupperà con una serie di puntate dedicate ai diversi temi che ruotano intorno al mondo screen line by Pellini. Prima di iniziare una rapidissima presentazione io sono Alessandro faccio parte del team marketing di Pellini e sono qui con Sergio Semeraro che è il responsabile marketing Pellini. Buongiorno a tutti. Allora oggi partiamo presentandovi una serie di nuovi materiali informativi e promozionali che formano un kit molto utile soprattutto al serramentista che si rivolge direttamente al cliente privato per raccontare e promuovere screen line in ambito residenziale. Partiamo dall'obiettivo di questi nuovi contenuti migliorare la qualità e la completezza delle informazioni che è possibile fornire a un potenziale cliente nel suo percorso di valutazione che speriamo lo porterà ad acquistare una soluzione screen line. In realtà quindi gli obiettivi sono molteplici perché molteplici sono gli step che una persona può attraversare prima di acquistare un prodotto. Sicuramente c'è chi per esempio non sa cosa succede quando il sole colpisce un serramento e quando luce e calore entrano nella stanza. Quindi può essere più utile informare e sensibilizzare la persona su questo punto perché una volta comprese le dinamiche sarà più propensa a considerare l'acquisto di una schermatura e le permetteremo quindi di fare una scelta consapevole. Invece chi conosce già il prodotto perché si è informato online o perché magari l'ha visto a casa di qualche amico o di qualche conoscente sarà sicuramente più avanti nel processo di valutazione e con questa persona non sarà necessario partire dal punto zero ma si potranno valutare le soluzioni disponibili. Capite bene quindi come le informazioni da fornire nei due esempi siano diverse. Nel primo caso è più utile spiegare le ragioni che presuppongono l'installazione di una schermatura. Nel secondo invece è necessario fornire informazioni specifiche sui prodotti a disposizione. Ma arriviamo quindi al punto. Come abbiamo trasformato questo principio in pratica? Con appunto dei nuovi materiali, dei materiali nuovi, materiali aggiornati che vanno da una guida informativa e arrivano al catalogo generale ScreenLine. Passando da un book fotografico e da due supporti che presentano due soluzioni particolarmente indicate per il residenziale. Ma entriamo ora nel dettaglio. Partiamo dal white paper. L'obiettivo di questo white paper che è una guida informativa è sensibilizzare il potenziale cliente sull'opportunità e sull'importanza di migliorare l'efficienza complessiva del sistema serramento con il contributo delle schermature solari. Questo per incrementare il risparmio energetico, l'efficienza energetica dell'edificio e il comfort abitativo per chi lo abita. Questo contenuto è stato realizzato con il contributo dell'ufficio tecnico Pellini e a ripercorre con un tono assolutamente divulgativo alcuni temi che sono anche al centro degli eventi Pellini incontra. E parte proprio dallo stesso presupposto, ovvero concentrarsi solo sulla capacità dei serramenti di minimizzare la dispersione di calore e quindi sul contributo che possono portare nei mesi più freddi, significa spostare le criticità energetiche e di comfort abitativo dall'inverno all'estate. Ora non sfoglieremo pagina per pagina ma vediamo giusto qualche esempio e anticipiamo che tutti i materiali saranno disponibili in pdf nell'area riservata del nostro sito da oggi pomeriggio. Qua siamo proprio all'inizio di questo contenuto della guida e partiamo da una situazione reale per spiegare cosa succede in una stanza quando il sole colpisce i serramenti. Per farlo condividiamo i risultati di un lavoro durato più di un anno durante il quale abbiamo monitorato l'andamento meteorologico e climatico in un punto preciso, un appartamento che si trova a Milano per analizzare come variano fattore solare e temperatura interna in base alla presenza o meno della schermatura e con le diverse schermature disponibili. Questo per offrire un esempio reale sul quale basare poi una serie di considerazioni su risparmio energetico, comfort, luce naturale e anche interior design. Questi che abbiamo citato sono tutti temi che non sono separati gli uni dagli altri ma si richiamano tra loro perché per esempio ridurre il calore in ingresso favorisce sì un utilizzo efficiente dell'aria condizionata e quindi un'ottimizzazione dei costi energetici ma permette anche di avere un ambiente più confortevole. Stessa cosa vale per la luce naturale. Una luce diffusa omogeneamente all'interno rende sicuramente più piacevole per esempio guardare la tv, leggere un libro o lavorare al pc ma allo stesso tempo permette di ridurre il ricorso all'illuminazione artificiale e da qui torniamo al tema del risparmio energetico. Oltretutto sulla luce naturale troverete una piccola chicca perché abbiamo scoperto che anche un genio come Leonardo da Vinci si interessò molto al comportamento della luce. Ovviamente non era minimamente interessato a tende o serramenti. Il suo obiettivo era quello di trasferire su tela la bellezza della luce diffusa perché riduce i contrasti tra luci e ombre e rende tutto un po' armonioso. Concetti che poi secoli dopo sono stati portati in ambito di interior design. Ovviamente l'irraggiamento solare e le strategie per gestirlo dipendono dalla direzione verso la quale la finestra guarda. Ecco perché abbiamo dedicato una parte della guida al tema dell'orientamento per spiegare le situazioni più critiche e sfatare anche alcuni miti. Uno tra tutti quello del sud come orientamento più complicato da gestire o l'estate come il momento dell'anno più più critico. Per passare diciamo così dalla teoria alla pratica raccontiamo anche alcuni esempi che riassumono quanto abbiamo visto in precedenza. Per alcune stanze come cucina, soggiorno, camera da letto sono state individuate le schermature migliori tenendo in considerazione la destinazione d'uso della stanza, l'orientamento e la tipologia di serramento installato. Arriviamo ora invece a Home, il catalogo Home. Non si tratta di un catalogo prodotti ma è un racconto per immagini per mostrare come ScreenLine si integra nei diversi serramenti e nei diversi contesti di arredo. Così da permettere al proprietario di casa di iniziare a immaginare la propria abitazione e i serramenti completi di ScreenLine. Le immagini la fanno sicuramente da padrone ma sono accompagnate da delle didascalie che permettono al lettore di capire quali sono le schermature, quali sono i sistemi installati, mentre i vari testi di approfondimento raccontano nello specifico i vantaggi della tenda in vetrocamera nell'abitazione. Come fatto per il white paper, anche per home vediamo qualche immagine, qualche esempio. Quindi iniziamo a vedere come il contenuto principale di questo catalogo siano le immagini, anche con formati comunque importanti come nel caso di questa doppia pagina, che mostrano diverse, davvero tante ambientazioni che vanno dalla cucina di un appartamento fino per esempio alla zona living di uno celle di montagna con grandi vetrate panoramiche. In tutti i casi, come dicevamo, sono presenti, potete vedere un esempio in basso a sinistra, delle didascalie che spiegano la soluzione installata. Ecco, mi soffermo un secondo su questa immagine perché ci permette di sottolineare una cosa. Tutti i contenuti offrono degli spunti che possono essere utilizzati per presentare i prodotti screen line e mostrano visivamente quello che viene poi raccontato dalle parole. Quest'immagine per esempio mostra davvero diverse cose interessanti. In queste tre immagini vediamo alcuni esempi come l'assenza di ingombri, degli ingombri della tenda tradizionale e quindi la possibilità di usare al meglio lo spazio disponibile, l'installazione di un sistema motorizzato a batteria che permette di evitare i lavori di muratura o l'adeguamento dell'impianto elettrico e nella terza immagine vediamo invece la facilità di accesso al serramento e la possibilità ad esempio di uscire in veranda o in giardino senza dover sollevare le tende tutte le volte che si vuole uscire. Questi e altri vantaggi sono raccontati valorizzando i benefici che screen line porta nell'abitazione. Quindi, giusto per fare un altro paio di esempi, quando parliamo di estetica citiamo la possibilità di valorizzare la bellezza dei serramenti perché questi non vengono coperti dai tendoni tradizionali. Oppure quando si parla di oscuramento si mette in evidenza il beneficio delle schermature blackout sulla qualità del sonno e allo stesso tempo la possibilità di rinunciare a scuri e tapparelle che richiedono invece una manutenzione e una pulizia periodica. E sempre nello spirito di mostrare quello che viene spiegato troviamo l'immagine di una di una camera da letto completamente buia grazie all'effetto delle schermature blackout e inquadrando il QR code è possibile vedere un video nel quale si vede l'abbassamento delle tende e l'oscuramento totale che si raggiunge all'interno della stanza. Ecco questo che vedete è il punto di arrivo del video di cui parlavamo poco fa con le tende completamente abbassate e l'oscuramento totale che si può raggiungere. La parte finale di home suggerisce invece la schermatura più adatta per ogni stanza spiegando il vantaggio specifico in quella situazione. Un esempio che facciamo è la cucina cioè uno degli ambienti più caldi di tutta la casa visto che insomma tra forni e fornelli contribuiscono già di loro ad aumentare la temperatura interna. Ecco in questo caso in una stanza come la cucina torna sicuramente comodo avere la tenda come alleato per ridurre il calore in ingresso ed evitare che anche il sole contribuisca al suo riscaldamento aggiungendosi appunto i forni e i fornelli. Dopo aver visto la guida e il gomma passiamo a due nuovi materiali che sono l'aggiornamento di quelli rilasciati precedentemente non si tratta tuttavia solo di un aggiornamento estetico ma anche qui abbiamo aggiornato le informazioni disponibili e le abbiamo arricchite con dei contenuti digitali a cui si può accedere grazie a un QR code. Con questi materiali ovviamente andiamo oltre la presentazione del concetto generale di screen line e di tenda in vitrocamera e spieghiamo dettagli e caratteristiche di due soluzioni specifiche e particolarmente indicate per le abitazioni. Uno è il sistema motorizzato batteria Vsmart, l'altra è la schermatura blackout. Nella brochure Vsmart oltre appunto alle informazioni specifiche e al racconto del prodotto veniamo rimandati grazie al QR code a un approfondimento in cui si parla dell'applicazione del sistema batteria in un casale toscano. Quindi una situazione in cui l'installazione di un sistema motorizzato classico e quindi con il collegamento all'impianto elettrico sarebbe stata difficile per via da un lato della muratura in pietra e dall'altra della presenza di vincoli architettonici. In quella dedicata invece alle soluzioni blackout quindi oscuranti, oltre anche qui a tutti i dettagli del prodotto, possiamo vedere il video di cui abbiamo anche accennato precedentemente per mostrare visivamente l'effetto di una soluzione di una soluzione blackout. Ovviamente l'offerta ScreenLine è molto più ampia ed ecco perché abbiamo incluso all'interno del kit il catalogo generale ScreenLine che non è sicuramente una novità del momento ma è uno strumento fondamentale perché fornisce tutti i dettagli su prodotti, caratteristiche, fattibilità, funzionamento dei singoli sistemi e così via. Quindi all'interno del catalogo troviamo, oltre ad alcune referenze, la descrizione dei singoli sistemi con il rimando a dei video tutorial che spiegano il funzionamento dei vari comandi, l'elenco di tutti i prodotti disponibili, le relative fattibilità e i colori di lamelli e tessuti per le customizzazioni. Anche qui vediamo un paio di esempi, in questa sezione vediamo i prodotti del sistema MB, quindi sistema motorizzato e ad esempio dalla tabella con l'elenco di tutti i prodotti ricaviamo le indicazioni dell'intercapedine nella quale si può installare la schermatura, sono presenti le informazioni sulle superfici massime realizzabili, il dettaglio di larghezza e altezza raggiungibili, mentre il QR code rimanda ai tutorial che citavo prima e che spiegano come è possibile movimentare la tenda con questo sistema. Qua invece abbiamo la possibilità di vedere tutti i colori disponibili per le lamelle e per i tessuti che un cliente può scegliere. Nella parte finale del catalogo troviamo anche alcuni esempi di performance energetiche in termini di fattore solare raggiungibili con alcune composizioni vedro schermatura, per chiudere così un cerchio che abbiamo iniziato con la guida presentata all'inizio. Tutto il materiale di cui abbiamo fatto una panoramica compone un kit che possiamo mettere a disposizione per permettervi di presentare il mondo screen line ai vostri clienti. Ovviamente il nostro lavoro non finisce con questa presentazione, non finisce con il materiale che vi abbiamo presentato oggi perché siamo già al lavoro su nuovi strumenti che vi presenteremo e vi condivideremo non appena disponibili. Ci teniamo a sottolineare una cosa sul materiale che vi abbiamo presentato. Tutto questo materiale è stato realizzato con una grande attenzione all'ambiente e per questo abbiamo scelto solo carta FSC prodotta senza l'impiego di acidi o di cloro, mentre per quanto riguarda la stampa abbiamo impiegato solo inchiostri di origine vegetale. Ovviamente il materiale sarà disponibile da oggi pomeriggio in versione PDF scaricabile dalla nostra area riservata dove ricordiamo potete trovare davvero tanto materiale che può essere utile nel lavoro di tutti i giorni che va dai cataloghi delle varie soluzioni, alle istruzioni degli accessori elettrici fino anche ai disegni tecnici dei vari prodotti. Ora lascio la parola a Sergio Semeraro, prego. Grazie Alessandro, come ha anticipato oltre al materiale che abbiamo passato in rassegna oggi e in questo incontro stiamo lavorando per sviluppare ulteriori strumenti che servono per migliorare la presentazione di ScreenLine. Tramite i nostri canali, tra cui il sito internet, il nostro servizio newsletter e le pagine social potete sempre tenervi aggiornati sulle novità che introdurremo nei prossimi mesi. approfittiamo di questo spazio per ricordare l'importanza di avere in esposizione presso la vostra sede o il vostro showroom almeno un campione a misura installato in un seramento. Questo vi permetterà di presentare a chi non conosce ancora ScreenLine di apprezzarlo dal vivo e iniziare quindi ad avere familiarità con il concetto di tenda in vetro camera. Ora, prima di lasciare spazio alle vostre domande, quindi potrete inserire all'interno della chat a destra sul vostro schermo, anticipiamo che nei prossimi mesi organizzeremo una serie di incontri online per trattare tematiche più tecniche, ad esempio quelle che riguardano il vetro, ma anche argomenti pratici e di conoscenza generale del prodotto ScreenLine e delle varie soluzioni che offriamo. Abbiamo pensato a questi webinar come uno strumento in grado di aiutarvi a presentare correttamente il prodotto e a rispondere alle domande dei vostri interlocutori, siano essi utenti finali o impiantisti. Come vedete nella slide, il prossimo webinar andrà in onda giovedì 2 maggio ed è già possibile iscriversi. Per farlo è sufficiente visitare la pagina che vedete, quindi il nostro sito, vi registrate come è fatto per l'evento di oggi. Allora, noi abbiamo concluso la presentazione, adesso abbiamo già ricevuto nel frattempo diverse domande. Possiamo iniziare, per esempio, da questo. Un utente ci chiede, è possibile organizzare incontri di approfondimento su qualche tema specifico? Sì, assolutamente la risposta è sì. Già dopo i primi eventi del nostro Roadshow per l'incontro di cui parlava prima Alessandro, alcuni clienti che hanno trovato interessanti determinati temi, ci hanno appunto chiesto di organizzare dei momenti di approfondimento. E gli appuntamenti online che abbiamo appena mostrato vanno proprio in questa direzione. Ossia, se doveste avere temi per i quali vi piacerebbe sapere di più, potete scriverci all'indirizzo marketingchiocciolappellini.net e valuteremo volentieri le vostre proposte. Detto questo, per ogni esigenza più specifica, il vostro referente commerciale è sempre a disposizione per entrare in dettaglio e poi trasferire anche a noi del reparto marketing eventuali esigenze. Come posso fare per ordinare un campione? Ecco, questo è importante, immaginiamo che la domanda provenga da un serramentista, occorre richiedere il campione alla propria vetreria di fiducia e quindi sarà quest'ultima a dare seguito alla vostra richiesta. Sto facendo un preventivo per dei seramenti in un B&B che stanno ristrutturando e l'architetto mi ha chiesto delle foto di progetti simili. Avete qualcosa? Sì, nella riservata del nostro sito www.pelini.net che davvero vi suggeriamo di conoscere perché dispone di tante risorse informative, è presente anche un catalogo dedicato all'hotellerie nel quale abbiamo inserito contenuti specifici dedicati a questo tipo di applicazione. Ne approfittiamo per anticiparvi che stiamo lavorando anche a dei contenuti specifici per altri settori come per esempio quello ospedaliero e scolastico. Poi un altro utente ci chiede, vorrei inserire alcune informazioni sui vostri prodotti nel nostro catalogo, potete aiutarmi? Assolutamente, siamo sempre molto interessati a questo tipo di collaborazioni, di iniziative di co-marketing. Anche in questo caso abbiamo a disposizione testi e immagini che possiamo fornire per mostrare la screen line in tutti i tipi di serramento e di contesto. Poi due domande simili, le leggiamo una ma sono simili, è possibile avere un campione di lamelle? Sì, noi non abbiamo volutamente inserito le mazzette colori in questo kit promozionale perché abbiamo notato nel tempo che ogni azienda o rivenditore gestisce la fase di scelta del colore in maniera diversa in momenti diversi. Potete comunque sempre chiedere una campionatura alla vostra vetrovia di riferimento. Allora, un'altra che dice è possibile ricevere le slide che avete mostrato? Sì, questa è anche un'altra, tre utenti che ci chiedono la stessa cosa. Sì, allora, nelle prossime ore riceverete un link alla pagina del sito dalla quale sarà possibile visionare in qualsiasi momento la registrazione di questo webinar e quindi vi invitiamo anche a condividere questa informazione con i vostri collaboratori colleghi che non dovessero essere presenti oggi. Quindi reputiamo che possa essere un utile strumento di informazione. Allora, vediamo se riusciamo ancora a rispondere a una domanda. Vedo che ne è arrivata una sui materiali anche. Abbiamo in esposizione i vostri prodotti. È possibile ricevere i cataloghi che avete presentato oggi in formato cartaceo così da poterli presentare ai nostri clienti? Sì, assolutamente. per richiederci lì potete o inviare una mail a marketingchiocciolapellini.net oppure andare vi mostriamo solo un secondo. Allora, eccolo qui. Potete andare alla pagina che vedete linkata qua sotto, quindi www.pellini.net slash kit trattino promo e da quella pagina compilando una forma, diciamo compilando un modulo, potete richiedere il materiale che abbiamo presentato oggi. Ok, un altro utente chiede, sarà disponibile materiale informativo anche sulle motorizzate? Sì, anche in questo caso stiamo lavorando per creare un documento che presenti caratteristiche, vantaggi di questo sistema, che è sempre più diffuso in ambito residenziale. Allora, direi che il nostro tempo a disposizione è terminato. Diciamo che se nei prossimi giorni dovessero venire in mente ulteriori domande, voleste ricevere maggiori informazioni su questa iniziativa e su altre che riguardano il proprio screen line, ma anche l'azienda Pellini, potete sempre contattarci all'indirizzo marketing-appellini.net. Se invece voleste richiedere il materiale che abbiamo appunto visionato oggi, abbiamo già detto, la pagina del sito linkata nella slide vi permetterà di farlo. Alessandro, hai altri commenti? No, stavo solo verificando eventuali altre domande. Allora, ci viene chiesto, ci saranno anche altri incontri dal vivo come lo scorso anno? Allora, per la prima parte dell'anno non abbiamo ancora delle date, stiamo lavorando per la seconda parte dell'anno e anche su questo punto non appena avremo degli aggiornamenti li condivideremo, quindi vi invitiamo anche per questo a iscrivervi, se non siete ancora iscritti, alla nostra newsletter, visitare il nostro sito di tanto in tanto oppure seguirci sui nostri canali social, perché tutte le iniziative che svilupperemo verranno anche comunicate e veicolate attraverso questi canali. Aggiungo un'altra, è arrivata anche un'altra domanda, state pensando di utilizzare prossimamente anche la calina in fibra e ho diverse richieste in merito? Allora, questo è un argomento che sicuramente il nostro referente commerciale potrà affrontare direttamente con voi e quindi fornirvi tutte le informazioni in merito ai possibili sviluppi. Capiamo che si tratti di una tipologia che è molto richiesta sul mercato, quindi sarà nostra cura inoltrare ai colleghi di riferimento la domanda. Allora, solo un secondo prima di chiudere, sto verificando eventuali altre domande alle quali non abbiamo risposto, perché alcune sono molto simili tra di loro. Quindi, ne abbiamo una forse, Sandovedo, una persona che ha partecipato al nostro incontro, alla nostra tappa di Milano, quindi Museo Alfa Romeo, di Pellini Incontra. Si era parlato di un'implementazione del sistema Vsmart, con comando della tenda anche da cellulare, con app. E' possibile avere materiale informativo, una sorta di domotica senza contatti unicolari? Allora, tra poco comunicheremo una serie di novità importanti che comunque abbiamo in qualche modo anticipato negli incontri, abbiamo fatto una serie di presentazioni di prototipi e siamo arrivati alla conclusione di questo progetto, quindi, tra brevissimo, formeremo il mercato di tutte le novità che siamo praticamente in fase di ufficializzazione. Ok, vedo che il nostro tempo a disposizione è terminato. Noi vi ringraziamo per la partecipazione all'incontro di oggi e ovviamente vi diamo appuntamento al prossimo webinar del 2 maggio e vi auguriamo una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.